Cari amici e amiche, benvenuti nel canale Whispers of Wisdom, dove cerchiamo di condividere ispirazioni e riflessioni profonde per alimentare la nostra crescita interiore. Prima di immergerci nell'odierno discorso, vi chiediamo gentilmente di sostenere il nostro canale iscrivendovi e lasciando un like. La vostra partecipazione è fondamentale per far crescere questa comunità di saggezza. Ora, senza ulteriori indugi, vi invitiamo a esplorare il potere della trasformazione personale nel nostro discorso odierno. Onorevoli ospiti, cari amici, è un onore trovarmi qui oggi per condividere con voi un messaggio di speranza, resilienza e forza interiore. La sensazione di essere incapaci può essere una tempesta oscura che avvolge la nostra mente e il nostro spirito, ma è importante ricordare che ogni tempesta alla fine si placa, dando spazio a un cielo sereno. Oggi, voglio guidarvi attraverso il percorso della trasformazione personale. affrontando la paura e la dubbia che possono intrappolarci. Innanzitutto, dobbiamo riconoscere che il sentimento di incapacità è una percezione distorta di noi stessi. Spesso si basa su autogiudizi negativi, dubbi interiori e la paura del fallimento. Ma, cari amici, il fallimento è solo una tappa lungo il cammino del successo. Ogni grande leader, ogni mente creativa, ha affrontato sfide e sconfitte. È attraverso queste prove che siamo forgiati, che acquisiamo la saggezza e la forza per affrontare il mondo con determinazione. Vi invito a riflettere su quante persone di successo abbiano sperimentato il fallimento prima di raggiungere le vette delle loro carriere. Thomas Edison disse una volta, non ho fallito. Ho appena trovato 10.000 modi che non funzionano. Questa è la mentalità che dobbiamo adottare. Ogni passo falso è un passo verso la nostra crescita personale. Non siamo incapaci, siamo in continua evoluzione. La chiave per superare la sensazione di incapacità è abbracciare la vulnerabilità. Accettare che non siamo perfetti, che possiamo commettere errori e che ciò non ci rende meno degni di successo. La vulnerabilità è la porta attraverso cui possiamo connetterci con gli altri, imparare da loro e costruire legami significativi. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato umano, perché è proprio lì che risiede la vostra autentica forza. Inoltre, dobbiamo guardare oltre le etichette che la società potrebbe imporci. Non consentite che gli stereotipi definiscano la vostra autoimmagine. Ogni persona è un individuo unico, con talenti, abilità e potenziali distintivi. Non consentite a nessuno di limitare la vostra visione di voi stessi. Siate audaci nel perseguire i vostri sogni, perché il mondo ha bisogno della vostra unicità. La gratitudine è un altro strumento potente per trasformare la sensazione di incapacità. Riflettete su ciò che avete realizzato, sulle persone che vi sostengono e sulle risorse che avete a disposizione. Spesso, ci concentriamo troppo su ciò che ci manca anziché apprezzare ciò che abbiamo già. La gratitudine ci apre la mente e il cuore, permettendoci di vedere le opportunità che ci circondano. Il cambiamento personale richiede tempo e impegno. Non abbiate fretta, ma siate costanti nei vostri sforzi. Ogni piccolo passo conta. Siate gentili con voi stessi durante il processo di crescita. Imparate dagli ostacoli e celebrate le vostre vittorie, anche le più piccole. Ricordate che siete parte di una comunità. Non esitate a cercare sostegno quando ne avete bisogno. Condividere le vostre sfide con gli altri non vi rende deboli, ma vi fortifica. Siamo tutti interconnessi in questo viaggio della vita, e la forza della comunità può superare qualsiasi ostacolo. La sensazione di essere incapaci è solo un momento, non la vostra realtà. Siete capaci di affrontare qualsiasi sfida, di superare qualsiasi ostacolo. Abbracciate la vostra unicità, coltivate la gratitudine e siate gentili con voi stessi. Il vostro potenziale è illimitato. Andate avanti, cari amici, e create il vostro cammino verso il successo e la realizzazione personale. Desidero continuare questo viaggio di riflessione e ispirazione, spingendovi a guardare al vostro interno con occhi nuovi, pronti a scoprire la vostra vera forza interiore. La sensazione di incapacità spesso ci porta a dubitare di noi stessi, ma voglio trasmettere la consapevolezza che la vostra potenza è come un fiume inesauribile, pronto a fluire attraverso di voi se solo aprite la porta della vostra anima. Immaginate un fiore che sboccia, timido ma determinato a mostrare la sua bellezza al mondo. Così dovete permettere alla vostra essenza di sbocciare, di aprirvi alle opportunità che la vita vi offre. Ognuno di voi è un fiore unico, con petali distinti che compongono la vostra individualità. Siate fieri di ciò che siete e abbracciate il vostro potenziale con gratitudine. È il momento di abbandonare le catene autoimposte della paura e dell'incertezza. Vi invito a considerare la vostra mente come un giardino sacro, pronto a essere coltivato con pensieri positivi e semine di speranza. Eliminate le erbacce dell'autodubbio e dell'autocritica, lasciando spazio a fiori di fiducia e autostima. Ogni passo che compite sulla strada della trasformazione personale è una pietra preziosa che compone il mosaico della vostra vita. Non abbiate paura di inciampare, poiché è attraverso le cadute che impariamo a rialzarci più forti di prima. Abbracciate i vostri errori come lezioni preziose e continuate a camminare con la consapevolezza che il vostro percorso è unico, scolpito dalle vostre esperienze. La forza della vostra determinazione può abbattere qualsiasi muro di dubbio. Non consentite alla voce interiore di sminuirvi, al contrario, ascoltate la voce del coraggio e della perseveranza. Ogni giorno è un'opportunità per riscrivere la storia della vostra vita, un capitolo in cui voi stessi siete gli autori. Ora, vorrei condividere con voi un racconto zen che incarna il messaggio di trasformazione personale e forza interiore che abbiamo esplorato finora. Nel tranquillo villaggio di Yuki, viveva un giovane di nome Kaito. Il suo cuore era afflitto dalla sensazione di incapacità, temeva che le sue azioni non fossero mai abbastanza. Un giorno, mentre passeggiava nei giardini di pietra del tempio locale, Kaito incontrò un anziano monaco, il saggio Maeda. Maeda percependo il peso nel cuore di Kaito, si avvicinò con gentilezza e disse, giovane Kaito, la tua forza risiede nel coraggio di abbracciare la tua vulnerabilità. Non permettere ai dubbi di imprigionare il tuo spirito. Curioso, Kaito chiese a Maeda di insegnargli il segreto per superare la sensazione di incapacità. Il saggio sorrise e condusse Kaito in una piccola sala dove c'era una tavola imbandita con una teiera e due tazze. La chiave per superare le catene dell'incapacità è come il rituale del tè, disse Maeda. Il bollitore rappresenta la tua mente, il tè la tua essenza. Ogni foglia di tè è un pensiero, positivo o negativo. Perché il tè sia delizioso, è necessario scegliere le foglie con saggezza, come tu devi scegliere i tuoi pensieri. Kaito imparò che, mentre versava l'acqua calda sulle foglie di tè, doveva concentrarsi su pensieri positivi. Ogni goccia di tè diventava un elisir di fiducia e autostima. Maeda sottolineò che il segreto stava nell'essere presenti, nel concentrarsi sul momento presente e abbandonare le preoccupazioni del passato e del futuro. Il racconto di Kaito e del saggio Maeda continua, ma per ora riflettiamo su questa lezione. La mente è come una tavola da tè, dobbiamo scegliere con attenzione i nostri pensieri e concentrarci sul presente. Attraverso questo processo, possiamo superare la sensazione di incapacità e assaporare la dolcezza della nostra essenza. Il vostro viaggio è unico e prezioso. Siate i custodi delle vostre menti, coltivate pensieri positivi e siate pronti a scoprire la vostra vera forza interiore. Ogni passo che compite è una danza armoniosa verso la realizzazione personale. Continuate il vostro cammino con fiducia e determinazione, perché il mondo attende di essere illuminato dalla vostra unica luce. Ciò che abbiamo appena esplorato insieme è un viaggio profondo dentro di noi stessi, una contemplazione sulla forza interiore e sulla trasformazione personale. Ora, voglio condividere alcune riflessioni che possono aiutarvi a scavare ancora più in profondità nel significato del discorso. Innanzitutto, dobbiamo capire che la sensazione di essere incapaci spesso nasce dalla nostra mente critica, che giudica le nostre azioni e le nostre scelte con severità. L'autovalutazione e il confronto con gli altri possono alimentare questa sensazione di incapacità. Tuttavia, il viaggio verso la vera forza interiore inizia quando ci liberiamo da questi giudizi autoimposti. L'essenza del nostro discorso è abbracciare la vulnerabilità come un atto di coraggio. Spesso la società ci insegna che la vulnerabilità è sinonimo di debolezza, ma in realtà è attraverso l'apertura al nostro lato umano che possiamo connetterci con gli altri in modo significativo. Siate aperti alla possibilità di condividere le vostre sfide, poiché in questo atto di condivisione trovate sostegno e comprensione. Ogni passo che compiamo sulla strada della trasformazione personale è un atto di amore verso noi stessi. Dobbiamo imparare a trattarci con gentilezza e compassione, come faremmo con un amico caro. Il discorso mira a farvi riflettere su come potete coltivare una relazione più amorevole con voi stessi, spezzando le catene dell'autocritica e permettendo alla vostra vera essenza di emergere. La gratitudine è un'altra chiave fondamentale nel processo di superare la sensazione di incapacità. Attraverso la riflessione sulla bellezza della vita, sulle vostre realizzazioni e sulle persone che vi circondano, potete cambiare la vostra prospettiva. La gratitudine è come una lente di ingrandimento per vedere chiaramente il positivo nella vostra esistenza, facendo emergere la vostra forza interiore. Il discorso vi invita anche a liberarvi dalle etichette che la società potrebbe imporvi. Ogni persona è un individuo unico con talenti distintivi, ma spesso ci sentiamo limitati dalle aspettative degli altri. Rompete questi vincoli invisibili e abbracciate la vostra autenticità. Nel fare ciò, scoprirete un senso di libertà e potenza che vi spingerà oltre i confini predefiniti. La storia Zen di Kaito e del saggio Maeda ha lo scopo di illustrare la saggezza di vivere nel momento presente e di coltivare pensieri positivi. Questa è una lezione che va al di là delle parole, invitandovi a tuffarvi nel flusso della vita senza essere intrappolati dalle ansie del passato o del futuro. Ogni istante è un'opportunità per abbracciare la vostra forza interiore. Ricordate che siete parte di una comunità più grande. Non siamo soli nei nostri sforzi di crescita personale. Condividere le vostre esperienze con gli altri crea connessioni significative e vi sostiene nel vostro cammino. La forza della comunità è un pilastro fondamentale nella costruzione di una vita ricca di significato. Vi invito a considerare il discorso non solo come un insieme di parole, ma come un invito profondo a esplorare la vostra anima, a coltivare una visione di voi stessi basata sulla gentilezza, la gratitudine e l'accettazione. Il vostro viaggio di trasformazione personale è un'opera in corso, un capolavoro che si svela ogni giorno. Abbracciate la vostra unicità, coltivate l'amore per voi stessi e sperimentate la gioia di vivere una vita piena di significato. Carissimi amici di Whispers of Wisdom, spero che il nostro discorso vi abbia toccato nel profondo e vi abbia ispirato. Vi chiediamo di supportare il nostro canale iscrivendovi, lasciando un like, condividendo questo video con coloro che potrebbero trarne beneficio e lasciando un commento con le vostre riflessioni. La vostra partecipazione è la linfa vitale di questa comunità, e ogni azione che intraprendete contribuisce a far crescere questo spazio di saggezza. Ricordate, siamo tutti in questo viaggio insieme, e il vostro sostegno è ciò che rende possibile continuare a condividere pensieri profondi e ispirazioni. Grazie di cuore per essere parte della famiglia Whispers of Wisdom. Siamo grati di avere ognuno di voi qui, e non vediamo l'ora di continuare questo meraviglioso percorso di crescita e condivisione. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate, insieme, possiamo diffondere la saggezza e l'ispirazione a ogni angolo del mondo. Ricordate sempre che ogni piccola azione conta, e il vostro contributo rende questo luogo speciale. Grazie ancora, e vi aspettiamo nel prossimo video di Whispers of Wisdom.